Credo che molto presto ci troveremo, parlando di Smart Cities, di fronte a un bivio, un bivio che c'è già stato altre volte nella storia della città, ed è quello di scegliere tra sistemi, tecnologie e organizzazioni centralizzate e proprietarie e sistemi invece aperti che sposino la natura intrinseca della città come anarchia organizzata. E non credo che questo sia una storia di società contro la corporation, ma che sia necessario per lo sviluppo di un'ecologia, del diritto, della società e anche degli affari e dell'economia che realmente colga le promesse che la Smart City ha fatto di efficienza, di qualità, di comfort, sposandole con le nostre preoccupazioni di accessibilità, trasparenza e controllo democratico del governo della città. È fondamentale in questo passaggio rafforzare le competenze e le capacità pubbliche che sono in fondo quelle che noi veramente condividiamo, sono l'infrastruttura civile e tecnica delle nostre città, perché l'assenza di un attore pubblico capace e competente all'interno della conversazione sulla Smart City rischia alla fine di fare inciampare la Smart City su questioni legali, giuridiche ed etiche e di replicare alcuni fallimenti che ben conosciamo nella storia della tecnologia. Pensiamo ad esempio al fatto di come forse la più gerarchica, verticale e dura delle ingegnerie, l'ingegneria nucleare, sia stata a un certo punto fermata da un no dei cittadini e quindi da qualcosa che è arrivato da un processo democratico che ha cancellato però anche un'opzione tecnologica.